...che devono rinunciare allo smettetto della nostra sicurezza, siamo venuti qui per chiamare la nostra sicurezza, la sicurezza, siamo arrivati qui per chiamare la nostra sicurezza, la sicurezza, siamo arrivati a più i fatti di tutti, come ha fatto il nazionale che ha fatto 500 mila euro nelle tasse del comune, che si deve vergognare, perché oggi ci vogliono vendere un'idea di sicurezza alimentata da paure dei ciali di massa, e noi oggi vogliamo andare a dire la città di Mensa, che Alessandria vuole tornare a respirare la libertà, che Alessandria, che noi abbiamo Alessandria, e che Alessandria vuole sapere ad essere una città vivibile. Oggi siamo qui, siamo venuti qua davanti a dire che in questa città c'è un'idea di sicurezza, un'idea finta, montata dai media e dalle certe istituzioni, un'idea di sicurezza che parla di paura del diverso, che parla di intolleranza e di razzismo, mentre noi vogliamo essere sicuri della vivibilità della nostra città, vogliamo essere sicuri, per esempio, che non ci verranno malattie respiratorie dopo un altissimo livello di inquinamento che è presente in questa città, vogliamo dire che per esempio...